C'è stato un periodo non molto lontano dove andare a caccia per molti significava l'unico modo per mettere della carne in tavola. In molte zone si andava a caccia alla ricerca di selvaggina, pregiata selvaggina di collina o di media alta montagna. Essendoci una grossa disponibilità economica si portavano con sé di solito pochissime cartucce e quelle poche cartucce dovevano funzionare in modo perfetto anche perché fare andare via una preda significava a ritornare a casa a mani vuote. Di solito si stava via anche diversi giorni e si portavano pochissime cartucce già caricate oltre a delle cartucce diciamo preconfezionate. Vi spiego in che modo. Parliamo nei periodi in cui si utilizzava esclusivamente fare una cartuccia di tipo tradizionale anche perché i componenti costavano veramente poco ed erano di facile reperibilità. Si usava a portare con sé dei bossoli non propriamente vuoti o meglio dei bossoli già caricati con una dose di polvere già provvisti di borraggio di tipo tradizionale di solito si utilizzava il zucchero con i vari dischetti sia quelli sopra la polvere che quelli da mettere diciamo sopra il zucchero per poi posizionare il piombo sopra perché non si metteva il piombo. Non si metteva perché la cartuccia andava preparata in base alle condizioni meteo che si trovavano in base all'altitudine nella quale si stava cacciando. Si portava con sé di solito un misurino che era o in canno oppure con vecchi bossoli ormai che non si potevano più riutilizzare perché i bossoli in cartone venivano sparati veramente tantissime volte. Per confezionare la cartuccia sul posto si utilizzava un orlatone di questo tipo molto utilizzato al sud e vi spiego come si procedeva. Allora abbiamo parlato di bossoli che venivano già caricati con la stessa dose di polvere che si sceglieva la polvere da utilizzare in quel determinato periodo oppure scelta anche forzata dal fatto che magari si possedeva un solo tipo di polvere. Si sceglieva la grammatura da utilizzare che poteva essere vicino al range minimo o vicino al range massimo. Si inseriva il piombo all'interno della cartuccia, il cartoncino di chiusura e poi si metteva il bossolo all'interno di questo orlatore. Come si procedeva? Semplicemente avvitando fino a che il bordo non poggiasse sul cartoncino, non si incominciasse a sentire un po' di resistenza come in questo caso. Si svitava e la cartuccia era chiusa in modo approssimativo diciamo, però funzionale, cioè era chiusa e pronta per essere utilizzata verso la nostra preda. Allora questo periodo che vi ho raccontato è più che altro riferito al dopoguerra quando alcuni calibri hanno vissuto un periodo di, hanno incominciato a vivere un periodo di declino, quindi si trovavano delle armi a buon mercato, delle armi che potevano acquistare in tanti, con della componentistica ancora tradizionale, quindi bossolo in tartone, borro in sucro, borro in feltro, agglomerate di sucro, dischetti e un po' di piombo si poteva esercitare la caccia in modo economico nel tentativo di insidiare delle prede pregiate, quindi parliamo di conigli, di lepri, di starne e di coturnici. Molti di questi cacciatori utilizzavano delle cartucce calibro 16, protagonista di questo periodo che vi ho raccontato, calibro 16 che ha un bossolo dalle proporzioni perfette. Oggi vedremo come fare una cartuccia di grammatura interessante per il calibro 16 con delle pressioni comunque contenute, dando la possibilità così di essere utilizzata anche in doppiette, magari a canesterni che sono sopravvissute al potere corrosivo dei componenti che si utilizzavano a quei tempi, quindi inneschi e polveri, ok? Quindi doppiette in ottimo stato che magari non utilizziamo più perché non troviamo delle cartucce adatte per essere utilizzate nei nostri momenti di caccia. L'assetto di oggi verrà realizzato con una polvere della Baschieri adatta a caricamenti medio pesanti, una polvere composta da nitrocellulosa laminata modificata che ci permetterà di lanciare i nostri 31 grammi minuti con una pressione Pmax media rilevata in canna manometrica di 650 bar ad una velocità di 382 metri al secondo rilevata sempre a 2,5 metri dal vivo di volata. Il tutto avverrà con un tempo di canna di circa 3000 microsecondi. Questo cosa ci fa capire che la spinta di questi 31 grammi di piombo 6 ad una velocità di 382 metri al secondo avverrà con una curva che oltre a raggiungere una Pmax non elevata ma lo farà in modo progressivo così da non stressare, da ammorbidire la nostra carica in piombo 6. Procediamo nel caricare questa cartuccia che vi ricordo è stato provato in canna manometrica dal trio big con la mg2 della baschieri. Allora come bossolo utilizzeremo un bossolo da 70 svasato con innesco 616. La polvere mg2 viene caricata in dose di 1,60. Come tipo di borra in questo assetto è stato utilizzato un borraggio in plastica della Gualandi una Super G H18. Procediamo nel mettere i nostri 31 grammi di piombo 6 e poi ci trasferiamo alla pressa per la chiusura in stellare ad una quota di 59,9. Allora pressa già impostata per questa chiusura che vi ripeto era fatta in stellare ad una quota di 59,9 utilizzeremo un incisore a 6 pliche della OMV in acciaio, un ribassatore sempre dell'OMV in acciaio ed una bobina questa volta in ottone sempre dell'OMV. Grazie 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 Eccoci con la nostra cartuccia chiusa in stellare pronta ad essere utilizzata nelle nostre doppiette magari datate ma comunque sempre devono essere in buone condizioni. Vi ricordo l'assetto completo realizzato in calibro 16 con un bossolo da 70 svasato innescato con 616. Polvere MG2 Lotto 2019 in dose di 1,60. Borra in plastica della Gualandi H18 e 31 grammi di piombo 6. Con questo assetto di oggi apriamo anche la playlist del calibro 16. Ok quindi li abbiamo trattati tutti o meglio li abbiamo aperti tutti e poi in seguito all'interno del canale man mano verranno inseriti diverse tipologie di assetto per ogni calibro. Vi comunico che i prossimi video saranno la continuazione degli episodi dedicati alla ricarica del 410. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!